Ogni anno, nella prima domenica di agosto, al Sacrario di Cimagrappa si ricorda che qui è stata scritta una pagina di storia dell'Europa e si ricordano infatti i 23.000 caduti di sette stati europei, i caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti. 23.000 uomini, molti dei quali giovani o giovanissimi, in prima linea per ragioni che magari non comprendevano. Una cerimonia importantissima perché ci collega con la nostra storia patria, con la battaglia in Montegrappa che è stata decisiva per le sorti della Prima Guerra Mondiale, ma che ci ricorda che la libertà e la democrazia hanno un prezzo, un prezzo molto salato, abbiamo pagato un prezzo di vita umana e che dobbiamo essere riconoscenti a tutti questi ragazzi molti ignoti. Un luogo sacro, una cerimonia solenne alla presenza della delegazione italiana e di quelle dei paesi che facevano parte dell'impero austro-ungarico. Quest'anno un legame ideale con la responsabilità dell'uomo a proteggere l'ambiente. La pace non è soltanto relazione tra gli uomini, la pace deve avere una visione integrale, dove la natura, l'uomo e il creato vivono in armonia. Il Grappa rappresenta non solo per le comunità locali, per l'Italia intera, un luogo di pace, ma anche è stato riconosciuto appunto dall'UNESCO come riserva di biosfera, proprio con il tema della pace tra i popoli e essendo riserva di biosfera il grido che parte dal Grappa è anche la pace tra gli uomini e l'ambiente. Quindi non può che essere un laboratorio, non può che essere un luogo dove si fa questa attenzione per salvaguardare la biodiversità. Qui in 23.000 riposano l'uno accanto all'altro in pace e ne ricordo anche delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale. La linea del Grappa, infatti, è stato uno dei fronti cruciali della Prima Guerra Mondiale e teatro di lotte eroiche durante la Resistenza.